Buongiorno, sono Lara Pasquarelli, da Ristorante Claudio di Bergeggi. Oggi prepareremo il condiglione di assice blu con olio DOP Riviera Ligure. Al centro del piatto mettiamo la nostra salsa di acciughe composta, le nostre insalatine dell'orto, quindi una misticanza, fagiolini, pomodoro demi-confit, delle zeste di limone candito, una salsa vergine, plastici blu precedentemente sbollentato, ancora un po' di salsa verde, quindi la salsa di acciughe composte che abbiamo messo alla base. E un cracker da dare croccantezza al nostro piatto. Olio DOP Riviera Ligure. Mettiamo lo scampo a terminare il nostro piatto. Ecco il nostro piatto, condiglione di assice blu con olio DOP della Riviera Ligure. Mettiamo il nostro piatto, condiglione di assice blu con il nostro piatto. Mettiamo il nostro piatto, condiglione di assice blu con il nostro piatto. Mettiamo il nostro piatto. Mettiamo il nostro piatto. Grazie a tutti.